La CGL di Teramo lancia l'allarme sui pensionamenti nella scuola. L'ambito territoriale e provinciale di Teramo ha comunicato infatti che dal 1 settembre 2020 per la provincia di Teramo andranno in pensione 226 lavoratori della scuola, 178 docenti, 45 personale ATA e 3 dirigenti scolastici. Nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali con il Ministero dell'Istruzione e l'Inps proprio per fare il punto sullo stato di lavorazione delle domande di pensionamento previste per il prossimo anno scolastico e le domande accolte sono state complessivamente oltre 40.000. Però tra le posizioni per le quali è stato certificato il diritto a pensione solo il 37,6% avrà la certezza del pagamento corretto a settembre e questo rappresenta un problema molto serio. Sicuramente i pensionamenti libereranno posti che saranno utilizzati sia per i trasferimenti che per le emissioni in ruolo. Purtroppo, sottolinea il sindacato, molte sono le classi di concorso scoperte per mancanza di graduatorie sia concorsuali sia ed esaurimento. E dunque ci saranno ancora tanti supplenti che parteciperanno al balletto delle nomine e non potranno consentire un organico stabile. E' facile immaginare che non tutti gli studenti a rientro il primo settembre troveranno i docenti incaricati. La CGL di Teramo chiede per questo interventi sostanziali sulla scuola, un settore pubblico fondamentale per il nostro Paese, al pari di altri diritti sociali come ad esempio quello alla salute. La scuola infatti garantisce il diritto all'istruzione, un pilastro indispensabile della nostra democrazia e della crescita civile.